è lo stesso ieri, oggi in eterno, Gesù è la salvezza, la stessa, ieri, oggi in eterno invoca il Padre, dici Padre io credo nel tuo dono, nel dono della salvezza che è Gesù e lo ricevo Signore, ti ringrazio Signore, ringrazio per questo dono dice che Dio ha tanto amato il mondo, la scrittura insegna che Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico figlio, affinché chiunque crede in Lui non muoia ma abbia la vita eterna Dio è amore, perché ha dato il suo unico figlio e tu lo puoi ricevere invocando Gesù invoca il Signore Gesù, dice la parola, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato Spirito Santo, confungi ogni cuore, Spirito di Dio tocca ogni cuore Signore Signore manda lo Spirito di fede Signore, Signore che siano toccati ogni cuore Signore è venuto a riconciliare, dice la scrittura, le famiglie, il cuore dei padri verso i figli il cuore dei figli verso i padri, invoca il Signore Gesù, Egli è la nostra pace dice la scrittura che Lui è riconciliato attraverso il suo sangue le cose che sono in cielo e le cose che sono in terra quindi tu lo puoi invocare, puoi dire una semplice invocazione puoi gridare il suo nome, gridare Gesù perché Lui è la salvezza Lui è la vita eterna, non è una religione ma tu non sei salvato per le tue opere tu sei salvato per il dono del Padre, Gesù Cristo ecco il Padre ti dona suo figlio, la salvezza, Gesù basta tu che la ricevi in fede dici Signore io credo Gesù che tu sei la salvezza io credo che tu sei il dono del Padre e ti ricevo nel mio cuore e quando tu ricevi Gesù, ricevi lo Spirito Santo e quando ricevi lo Spirito Santo, ricevi la vita eterna e la pace, dice la parola di Dio chiunque credi in Lui non sarà confuso chiunque credi in Lui è una nuova creatura e le cose vecchie sono passate ed ecco sono diventate cose nuove grazie dice la parola di Dio il Signore non è venuto a condannare Gesù non è venuto a distruggere ma Gesù è venuto a salvarti Gesù è venuto a darti il suo sangue la sua salvezza, la vita eterna ricevelo nel tuo cuore ricevelo ora e ha la vita perché dice la parola di Dio chi ha il figlio ha la vita chi non ha il figlio non ha la vita così questo dono è per tutti quanti perché Dio ha tanto amato il mondo ha amato tutti quanti puoi riceverlo adesso invoca il suo nome Spirito di Dio, compungilo in cuore si, guardate in simonialza Spirito Santo attraverso i tuoi figli che Gesù è la salvezza che Gesù ha perdonato tutti i tuoi peccati il Signore non è venuto a condannare il Signore non si ricorderà più dei tuoi peccati dice la parola di Dio il Signore è venuto a riconciliarti al Padre tu puoi invocare Dio Padre Abba Padre in virtù di Gesù Cristo Dio è tuo Padre Dio è tuo Padre riceve Gesù Cristo e Dio è tuo Padre Dio è la tua salvezza Dio è la rocca della tua salvezza chiunque avrà invocato il nome del Signore Gesù sarà salvato amè amè io lo voglio simondato e in quell'istante egli fu guarito dalla sua lebra alleluia Gesù può guarire la lebra la lebra del peccato Gesù può guarirti Gesù ha toccato quell'ebroso dice la parola di Dio e in quell'istante fu sanato e in quell'istante fu santificato e santo amè amè il Signore ti dice io sono qua per toccarti il Signore non si vergogna di te il Signore vuole toccarti vuole purificarti vuole renderti santo perché il Signore ti ama ha dato il suo sangue ha dato il suo spirito per te il Signore ha detto Padre nelle tue mani ricevi il mio spirito e poi lo spirito santo è stato riversato il giorno di Pentecoste oggi il Signore vuole riversare il suo santo spirito su di te amè tu sei impuro agli occhi di Dio perché il Signore ti dice sì io lo voglio sì puro sì io lo voglio sì santo sì io lo voglio sì giusto agli occhi di Dio tu sei santo sei puro sei giusto perché il Signore è venuto a lavarti col suo sangue e il Signore è venuto a santificarti e a darti il suo spirito il Signore vuole avvenire a vivere nel tuo cuore a cambiare dice la scrittura chi crede in me ha la vita eterna chi crede in me è una nuova creatura il Signore non è venuto a dirti che sei colpevole il Signore ti dichiara giusto santo e ti dice sì io lo voglio sì purificato questo dice il Signore quindi fai che il Signore ascolta questa parola perché la parola è spirito e vita amén Pietro ha detto Signore da chi andremo tu hai parole di vita eterna il Signore è venuto a purificarti e ti dice ancora sì io lo voglio sì guarito sì io lo voglio sì puro sì purificato nel nome di Gesù amén 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 Grazie a tutti